Credo che oggi abbiamo siglato un'intesa molto importante perché consente l'inserimento lavorativo di soggetti cittadini stranieri che titolari oppure che hanno fatto richiesta di protezione internazionale. È una risposta concreta e soprattutto serve, secondo me, a quel principio di integrazione che è la base di una serena convivenza civile. Grazie a tutti.